ciao a tutti sono qui dove ho il mio ciascio una bella seggia old style dall'abrico ma vi volevo dare un'ansia purtroppo che mi ha deluso sono da mezzogiorno meno 20 ad ora che sono quasi le 20 e credo che sto cercando di scoplarvi nella nostra tradizione perfettamente italiana madonna potana e che quindi poi vi posterò settimana prossima perché deve essere di giovedì solo che non ci sono riuscito né la telecom italia né vodafone né il cam italia non ho voluto funzionare come come internet come trasmissione dati e ho voluto segnare questa cosa per dirvi guardate in che situazione di ciascio siamo e soprattutto non credete a quelli che dicono che voleremo invevevole voleremo invevolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ci piantano i broccoli su Marte ma lasciateli fare quindi un sauce questo solo per avvisarvi se la linea ritornerà invece di darvi quello che voglio per il giovedì vi darò un altro gran bel incasso e un bel primo plevi